Lorena Spampinato, benvenuta nel Posto delle Parole. Grazie, grazie. Lorena Spampinato, autrice del romanzo Piccole cose connesse al peccato, pubblicato da Feltrinelli. Lorena Spampinato è nata a Catania, ha vissuto a Londra, a Roma, laureata in Scienze Politiche. Il suo romanzo, uscito nel 2020, Il silenzio dell'acciuga, è stato proposto per il premio Strega 2020 da Lidia Ravera. E adesso andiamo, insieme con Lorena Spampinato, a scoprire, ma non troppo, perché noi amiamo stare sulle soglie delle storie, come ci diciamo in questo appuntamento, andiamo a scoprire la sua nuova scrittura. Nadia Terranova, nella fascetta, scrive Lorena Spampinato ci mostra cosa accade nella vita segreta delle ragazze, con la capacità straordinaria di raccontare le cose piccole come sotto una lente di ingrandimento. Ma prima di andare nella lente di ingrandimento, Lorena Spampinato, andiamo a raccontare che cosa ci dice l'immagine di copertina. Allora, nell'immagine di copertina ci sono le due ragazzine protagoniste, guardate però quando sono un po' più piccole. Nel romanzo noi le incontriamo quando hanno 14 e 16 anni, però ci sono all'interno del romanzo molti flashback che le ritraggono bambine. La storia è quella di una vacanza estiva che trascorrono queste due ragazzine in un paesino vicino Taormina. È un paesino che non è mai nominato, però che ricorda molto i paesini del litorale, di quel litorale siciliano. Si vede in lontananza a Capo Taormina, però la Sicilia non è raccontata in maniera pittoresca. Come di solito si racconta quella parte di Sicilia, non c'è soltanto il mare, non ci sono soltanto questi villeggianti stagionali che vanno a farsi le vacanze in questo posto bellissimo. Ci sono queste ragazzine che arrivano in questo paesino e di questo paesino guardano anche le grepe, guardano le storture, guardano anche i posti brutti, guardano le ombre più che il sole. Guardano molto un gruppo di ragazzi che vivono in questo paesino e che sono molto distanti da loro, sia per classe sociale che per stile di vita. Loro sono due ragazzine borghesi, vengono da Catania e quindi il confronto con questi ragazzi sarà inizialmente anche molto violento. Eh sì, sarà anche violento perché la crescita presuppone anche di passare attraverso quelle che sono ferite, come ci diceva Lorena Spampinato poco fa anticipandoci per l'appunto questa storia. Ed è una storia piena di sole questa, Lorena Spampinato, piena veramente di tanto sole in questo luogo, in questo luogo che è la Sicilia ma potrebbe anche non essere la Sicilia, alla rincorsa di che cosa? Alla rincorsa semplicemente... potremmo andare a prendere in prestito quattro parole, Lorena Spampinato, la ricerca di casa, di sollievo, di ali, di carezze, di vita, anzi cinque parole, vero? Sì, in realtà secondo me la parola chiave è la ricerca del desiderio. Queste ragazze si scoprono adolescenti in quest'estate, l'estate è uno stato simbolico, quindi per loro rappresenta l'interruzione della normalità e l'arrivo di un tempo in cui può accadere qualcosa. Loro si aspettano che accada qualcosa in quest'estate, ma è un'estate diversa dalle altre perché loro stanno crescendo, il loro corpo cambia e si accorgono di ritrovarsi come soggetti desideranti. Sono ragazze che desiderano e questo desiderio trabocca da tutte le parti, non sanno governarlo. Quindi si getteranno in questo nuovo spazio sospeso appunto con questo desiderio tra le mani e sarà anche rischioso cercare di governare questo desiderio che le porta da tutte le parti. Il libro precedente di Lorena Spampinato era Il silenzio dell'acciuga, come ho detto, pubblicato da Nutrimenti e in quel libro c'era una coppia, Gero e Teresa, due gemelli, sono bambini, hanno nove anni, masca e femmina e qui in questo romanzo troviamo ancora una coppia di personaggi, Annina ed Enza e continua questa ricerca attraverso la giovane età, Lorena Spampinato. Sì, per me il valore del doppio è molto forte in narrativa. Non solo in narrativa, mi piace esplorarlo con la narrativa, però nella vita il doppio ha un potere, ha il potere di farci specchiare in un altro e quindi di trovarci attraverso l'incontro con l'altro. Nel libro precedente io raccontavo l'infanzia di una ragazzina siciliana negli anni 60, qui invece racconto l'adolescenza di due ragazzine, sempre siciliane, negli anni 90 non cambia però il loro modo di cercarsi anche attraverso lo sguardo altrui, quindi di cercarsi e di trovare una forma attraverso lo spazio che ci danno anche gli altri. Quindi a questo serve il doppio, a trovare con più insistenza qualcosa che abbiamo dentro e che però non riguarda soltanto noi come singoli, riguarda la relazione, il modo in cui sappiamo rapportarci agli altri, il modo in cui gli altri hanno senso nella nostra vita perché contribuiscono a definirci. Questo è importante, gli altri contribuiscono a definirci e viceversa. La relazione, forse Lorena Spampinato, quando parliamo di relazione, sta un po' tutto in queste cose, il gioco tra me e l'altro. Sì, è sempre così. Mi viene in mente un romanzo che è «Sorella mio unico amore» di Jessica Roloz. Lei lì diceva che, in realtà lo faceva dire agli abitanti delle isole Fisi, che i bambini sono anime umbratili, che vuol dire indefinite, e lo sono perché non sono ancora immerse nella rete di relazioni sociali. E qui si diventa definiti, si prende una forma soltanto quando ci mettiamo in questa rete, quindi quando ci confrontiamo con gli altri, cominciamo davvero ad avere una forma. Prima siamo umbratili. Quanto invece queste due giovani protagoniste, Enza e Dannina, hanno voglia di essere definite, di definire? Perché quando sei in quell'età lì, cosa te l'importa della definizione? Vuol dire essere magari ingabbiati per quell'età. Invece loro hanno il loro sguardo, uno sguardo immenso verso tutto quello che è nuovo, e quindi provare cose. E la parola desiderio è una parola che è presente nel significato più largo del termine. Cercano di ridefinirsi, credo. Fino a quel momento loro hanno avuto la forma che è stata data loro dall'alto, quindi dai genitori, dalla scuola. Per tutta l'infanzia queste ragazzine sono state sorvegliate, a loro è stato detto cosa essere, cosa diventare, come stare al mondo, come stare composti, per esempio. E invece per la prima volta cercano di una definizione che riguardi non un'imposizione dall'alto, ma qualcosa che si trova dentro. Quindi in questo senso loro cercano di definirsi, non secondo etichette che qualcuno ha messo loro addosso, ma attraverso una nuova scoperta, una scoperta che mette anche in dubbio tutto quello che sono stati fino ad allora. E in questo c'è qualcosa di rivoluzionario che fa parte dell'età dell'adolescenza. L'idea di mettere in dubbio tutto, tutto quello che ci riguarda, tutto quello che fino a prima è stato sacro. Persino l'immagine degli adulti viene a un certo punto infranta. E si cerca uno spazio nuovo in cui trovare una forma che ci somiglia di più, che ci appartiene di più. E a volte questo passaggio è doloroso proprio per questo, perché lo facciamo da soli e perché rappresenta una rottura, una rottura col passato, probabilmente anche col futuro, però è una rottura che è anche dolorosa. E in questa rottura inseriamo una parola, partendo dal titolo per entrare però in allo sviluppo della storia. Quanto entra il peccato nella definizione di se stessi, nella parola desiderio, in quell'età? Il peccato io l'ho messo anche nel titolo, perché era fondamentale in questa storia l'idea di avvicinarsi a qualcosa che riteniamo proibito. L'idea quindi di andare a scavallare una regola, l'idea di prenderci uno spazio non per concessione, ma perché rubiamo quello spazio, perché lo desideriamo talmente tanto che ce ne impadroniamo anche in maniera indebita. E queste ragazze hanno tanta voglia di toccare questo proibito, di fare ciò che non si può fare, perché in quest'estate fare ciò che non si può fare rappresenta in qualche modo volere a tutti i costi crescere. Volere a tutti i costi crescere e farsi anche male, perché niente fa male come l'amore. Sì, io indago in questo romanzo il lato feroce dell'amore, il lato oscuro dell'amore, quello che al suo passaggio lascia residui collosi, qualcosa che ci rimane attaccato, qualcosa di cui fatichiamo a liberarci e che però rimane come una ferita che non si è mai rimarginata bene. E racconto questo amore e il bisogno di questo amore anche con una certa violenza. Ci sono a un certo punto queste ragazzine che prendono una gatta, la prendono dalla strada e cominciano a nutrire, cominciano a ingozzarla di cibo e hanno verso di lei una premura quasi materna. E però allo stesso tempo temono che questa gatta scappi e quindi le costruiscono una gabbia, una gabbia fatta di sedia e di lenzuola e la lasciano lì dentro e le fanno anche dei ricatti amorosi, le dicono se stai buona ti lasciamo libera. Ecco il lato oscuro, il lato feroce dell'amore, l'idea di voler accudire allo stesso tempo, di voler trattenere per sé il possesso, il lato morboso del possesso. C'è tutto questo nel romanzo. Il trattenere per sé, e mi viene in mente Lorena Spampinato, cosa per esempio Bruna tratteneva per sé, non mi sbaglio, quanto contano i libri, adesso non mi ricordo più per chi contava molto la lettura, come perenza, ecco esattamente perenza, ho fatto la gaffe, poi per la paura di continuare nella gaffe non ho più detto nulla, quanto invece nel tenere nascosto la coniugazione del verbo leggere era importante anche per evadere? La lettura è centrale, io volevo un personaggio che leggesse, che trovasse dentro i libri qualcosa che nella realtà si trovava a fatica. Cito un libro all'interno del romanzo, che è Le vergini suicide, di Eugenidis. Lo cito non a caso, lo cito perché quel libro contiene delle parti di questo, e quel libro racconta la storia di cinque sorelle che nell'arco di un anno si suicidano tutte, poi è stato tratto un film che forse è diventato più famoso del libro, che è il film di Coppola, Le vergini suicide appunto. Ecco, lì dentro però c'erano queste cinque ragazze guardate e narrate, raccontate da un gruppo di ragazzi. Io faccio invece un'operazione diversa, racconto le ragazze del mio libro, guardate da un occhio femminile, e quindi lo sguardo sulle ragazze è sempre uno sguardo femminile che permette loro di essere dei soggetti desideranti e non degli oggetti desiderati. Quindi l'idea di inserire un libro all'interno parte da quest'urgenza qui. Ma siamo sicuri che non sono mai degli oggetti desiderati? Lo sono, però sempre dalla narratrice, che è una donna anche lei, e quindi le guarda e desidera queste ragazze, desidera anche essere come loro, le ammira, le invidia, però in questo sguardo non c'è mai quello che fa l'occhio maschile, cioè appiattire l'esistenza femminile, e appiattirla per renderla in qualche modo unica per tutte. Invece lei racconta queste ragazze che sono tutte diverse, racconta anche le madri di queste ragazze, anche queste madri sono tutte diverse, vivono tutte dal mondo esperienze diversificate. E in questo mi serviva l'occhio femminile, nel raccontare che l'esperienza femminile è sempre diversa. Quanto si sono ingannate nello sviluppo di questa storia, queste due protagoniste, Lorena Spampinato? Molto, l'inganno è sempre dietro l'angolo. Ho scelto anche un narratore interno proprio per rendere ancora di più l'idea dell'inganno. Il narratore interno ti permette anche di mentire al lettore, di dire questa cosa qui te la racconto perché l'ho vista con i miei occhi, però spesso l'occhio e la memoria mentono, sono fasulli e quindi, caro lettore, posso anche prenderti in giro in questo mio racconto. È una cosa molto affascinante questa nella letteratura. Quando la trovo mi piace sempre moltissimo. Lorena Spampinato con piccole cose connesse al peccato, il libro pubblicato da Feltrinelli. e vorrei ancora, Lorena, alcuni istanti perché verso la fine, senza ovviamente rivelare come va a finire questa storia, leggo «Prima di oggi non avevo quasi mai raccontato questa storia. Le volte che avevo tentato gli eventi erano usciti di bocca, contraffatti». Ora, quanto è vero questo quando si vuole raccontare una storia poi a volte si riesce molto credibile e quando si vuole arrivare a raccontare il vero man mano che ti avvicini a quella parola difficilissima, alla verità, vedi che in fondo le parole si sbriciolano e vanno in mille pezzi. È così anche per Enza e Annina. È così, la verità sfugge sempre perché cerchiamo in qualche modo di contraffare quella verità per salvarci dalla verità perché a volte la verità è cruda e la verità ci vuole colpevoli, la verità ci vuole cattivi e quindi per salvarci da quella verità l'unico modo è tentare di contraffarla, renderla a nostro favore. Poi però c'è un tentativo di salvezza nel libro e la salvezza arriva in questo libro quando il peccato viene esplicitato che è un'idea un po' di matrice cattolica, l'idea di essere redenti quando ci dichiaremo peccatori. Ma forse anche al di là della religione, Lorena Sbampinato, Sì, fa parte della nostra cultura. Però è anche un percorso, se vuoi, potremmo dire psicoanalitico, nel senso che se io ho un problema fino a quando io non convivo, non racconto, non trovo le parole giuste, per raccontarlo questo problema mi opprime, quindi è un po' quello che abbiamo ascoltato dalle tue parole poco fa o no? È così, è così. Io tra l'altro venivo da un libro che raccontava di silenzio e raccontava del lato feroce del silenzio, quello che nasconde le cose, che nasconde la verità. Invece in questo libro volevo che le parole, la voce di questa protagonista avessero avessero un peso, un peso che condanna e un peso che salva. Piccole cose connesse al peccato, questo romanzo che si chiude con questa parola, chissà. E su questa parola lasciamo poi scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori, il nuovo romanzo, piccole cose connesse al peccato, ma prima di salutarci, Lorena Sbampinato, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni ho appena chiuso La bella confusione di Francesco Piccolo. E in 30 secondi che cosa racconta? Racconta di due film epocali che sono otto e mezzo e il gatto pardo, che hanno fatto parte della vita dell'autore e che gli hanno dato quel fuoco che l'ha portato poi a decidere di diventare scrittore e sceneggiatore e quindi di lavorare con le parole. Quel fuoco nasce dalla visione di questi due film e ne racconta tutte le vicissitudini, racconta come Claudia Cardinale per esempio passasse da un set all'altro per dividersi tra i due film, racconta la passione che c'è dietro il voler mettere in scena o mettere in parole una storia. Grazie davvero del tempo che ci hai dedicato Lorena Spampinato e a risentirci. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie mille, Buongiorno.